Due anime inquiete dalla sensibilità modernissima, Lorenzo Lotto e Giacomo Leopardi, lontani temporalmente, con mezzi di espressione diversi, pitture e poesia, ma uniti in quell'impronta d'animo, irrequieta e rivoluzionaria, sono insieme a Recanati, faccia a faccia, nell'esposizione curata da Vittorio Sgarbi fino all'8 aprile, nel segno leopardiano, il progetto di recupero del Colle dell'Infinito. Il FAI nazionale si è interessato al Colle dell'Infinito e ha messo a disposizione ovviamente tutte le loro conoscenze, tra cui l'architetto paesaggista Paolo Peirone, che è veramente un personaggio molto importante, che cura i giardini da quelli del Papa, ovviamente mezzo mondo, è un personaggio oltretutto molto particolare e anche molto simpatico. che appunto sta progettando e riqualificando il vero Colle dell'Infinito, perché il vero Colle dell'Infinito non è tanto quello che si vede giù quando si arriva e si fa la passeggiata a piedi, ma è l'orto delle monache del monastero del Santo Stefano, che si trova più in alto e che si apriva solo il 29 di giugno per le celebrazioni leopardiane. Invece adesso con questo progetto, ripeto, che è anche ambizioso e con la sinergia tra tutti gli enti pubblici, che ovviamente in primis noi come Comune, perché l'orto è di proprietà del Comune, stiamo cercando di fare questo progetto anche di riaprire e quindi ridare uno spazio importante in primis alla cittadinanza, quindi a tutti i recanatesi, che magari l'orto delle monache si vedeva una volta all'anno, e a tutti i visitatori che vorranno vedere questo Colle dell'Infinito, della siepe che il guardo esclude, per cui ecco anche lì c'è la poesia di Giacomo, ma c'è anche il paesaggio e la bellezza di stare sul luogo veramente unico. Poi verso il 2019 con i 200 anni dell'Infinito, la lirica più celebre. Ci apprestiamo a celebrare i 200 anni dell'Infinito perché cade proprio nel 2019, vogliamo anticipare già a fine 18, vogliamo anticipare con una programmazione culturale importante appunto per sempre celebrare l'Infinito, quindi inizieremo nel 2018, nel 2019 i grandi festeggiamenti che raccoglierà un po' tutto perché poi l'Infinito, l'Infinito lo ritroviamo in tutti gli ambiti, non solo sulla poesia, nell'arte ma anche nella matematica. Una festa quindi non solo re canatese che dovrà coinvolgere un po' tutti e si spera ecco di farlo con un bel comitato nazionale, già siamo stati al Ministero per parlare con i funzionari e quindi chiedere la realizzazione, la possibilità di fare. Entro marzo dobbiamo presentare il programma e poi vedremo come andrà.